Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo un stewedio medievale medievale, da Antimus d'Observazione Ciborum, scritto nel XVI secolo. Iniziamo con gli ingredienti. Potremmo il cuore, la ruta di cagliari, luce, vinagre, pepe nero, pepe nero, pepe nero, pepe e menta. Prendiamo la ruta di cagliari, luce e la ruta di cagliari e la menta. Il cagliari è chiamato selenone in greco e l'apium in latino. In fratelli antichi, le parti maggiormente utilizzate sono le rute, generalmente cibarie, e le vie. A volte troviamo anche le stocche e le sede usate come pepe. Nella materia medica, l'epidio greco, Dioscorides, scrive che il cagliari è mangiato come vegetale, nella stessa forma come Smirnium molisatrum. La sua ruta è sembrata o mangiata rovina. Le sue stocche e le vie sono a volte sbagliate con garum o preservate rovina in brano. È generalmente considerato una buona alimentazione per il stomaco, perché aiuta la digestione. Altri condimenti, secondo Gallen, sono l'olio di olio, il vino e il vinagre, che sono consigliati per sbagliare le cagliate o le rose. Per la nostra ricetta abbiamo usato il cagliari. Le rute degli altri tipi di cagliari sono piccole e insuutabili per cuocere in modo descritto nelle storie. Quindi è possibile che Antimus e gli altri autori sbagliate una varietà simile al cagliari. Abbiamo usato la carne con due piccoli di salto per circa un'ora. Poi aggiungiamo la ruta di cagliari e la menta e cuociamo per un'altra ora. L'Observazione Ciborum è particolarmente interessante, non solo perché si concentra sulla dieta dei francesi, ma, maggiormente, perché ci mostra che la transizione tra la ricetta antica e la ricetta medieval era più migliorata da ciò che possiamo immaginare, grazie alla continuità della tradizione portata dalla literatura medica. Nella cagliari 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 è una ricetta per la ruta di cagliari, molto simile alla quale prepariamo oggi, raccomandata per il stomaco come tipico della tradizione medica antica. La cagliari, con la sua ruta, è scocata con lecce, poi scocata nel mortaio con un po' di grado, e scocata ancora con l'addizione di oniglio, pepe e garum, poi servita con lecce. Lecce e il cagliari appena non solo nella preparazione di stews antimos, chiamati uscela, ma anche come condimenti che possiamo aggiungere a qualsiasi tipo di piatto. Le riccomandazioni antimos non sono mandatorie, ma devono essere considerate una serie di suggerimenti per preparare piatti healthy, secondo i principali della dietetica. Questa volta abbiamo scelto una variante per l'uscellum di uccellum, che necessita la ruta di cagliari, lecce e il penne royal. Abbiamo cambiato il penne royal con la menta perché non cresce nel nostro bambino durante questa sezione. Altri ingredienti includono pepe e lecce, come nella ricetta della Recoquinaria. Lecce, invece, sono un'addizione medievale. Non si trovano nella ricetta antica romana, ma come un sapore in una ricetta per il garum. Abbiamo aggiunto il garum, un ingrediente che l'antimos usa raramente, e lo sostituito con il salto. È interessante notare che, se eliminiamo il tonno e aggiungiamo l'uscellum di uccellum, invece di garum o salto, come consigliato da Antimus in alcuni passaggi, prepariamo un piatto molto simile a alcuni che troviamo nei ricettari medievali, come Anonimo Toscanos, Libro della Cucina o Liber de Coquina. Altri ingredienti usati per preparare l'uscellum di Antimus sono Costus, Nardus e il vino, ma li escludiamo per concentrare più sul sapore del salto. troviamo il link a varianze diverse per le stucce di uccellum di Antimus in descrizione sotto. Quando il stucce è quasi fatto, riprendiamo le spezie e aggiungiamoci ai altri ingredienti, con un po' di vinaiglia e un doni, poi cuociamo per altri 5 minuti. Non aggiungiamo troppo doni per evitare il piatto di diventare abbastanza dolce. Per imparare più sul sapore di questa ricetta, guardate il nostro libro L'Observazione Ciborum, Recipesi Mediabili, al Corso dei Franci, che include la traduzione di questa ricetta, un'introduzione e un glossario. Nella nostra pagina Patreon, in addizione, trovate più articoli e tradizioni di ricette antiche e medievali, tra cui i primi 9 libri del Reco Quinaria, se siete interessati nella cucina antica, leggiate la cucina antica romana. Se volete sapere più sulle mani medievali, vi raccomandiamo Libro della Cucina Mediabili, Recipesi Mediabili, anche conosciuto come Anonimo Toscano, e Registrum Coquine, un cucchiaino medieval. Per più informazioni su vegetali nella cucina antica storica, leggiate le ricette antiche italiane, vegetali, frutta, erbe, e le flore. Per supportare il nostro lavoro, puoi anche comprare un Zabir e comprare il nostro mercantino. Trovate tutti i link nella descrizione sotto. la descrizione sotto. Questo piatto fu un po' piccolo dolore e sauro, intensamente fragrante con celeriac e carne, un piatto delizioso per i ultimi giorni del vento o il comune del vento. Puoi servirelo con lentilli e sumac, o un peccato portato con peccato. Trovate i link ai video nella descrizione sotto. se siete interessati in alimenti e riscaldi, abbiatevi al nostro canale e considerate supporto noi sul Patreon.